Un degrado in pieno centro a Salerno, un percorso ad ostacoli dove purtroppo gli ostacoli sono gli escrementi di cani randaggi o animali domestici, l'immondizia, l'incuria, l'assenza di cestini, le panchine sporche usate come pattumiere fino ad arrivare a materassi, qualche coperta e qualche indumento pesante accatastati in qualche angolo ed usati da qualche clochard per trovare il riparo dal freddo. È il quadro desolante che si presenta a lungo la discesa di via Matteo Polito a due passi dalla fermata Vernieri via Duomo della metropolitana leggera di Salerno, la parallela di via Le Ruggero Moscati, il trincerone in pratica, in pieno centro cittadino insomma, i cittadini, gli abitanti, i residenti quasi non ci fanno più caso, abituati al degrado che si vede si respira. Molti preferiscono non parlare, altri non vogliono, c'è chi mostra qualche foto con cui ha monitorato da tempo la situazione e chi invece fa un rapporto dettagliato sullo stato dell'arte. Viviamo nel degrado più assoluto, c'è mancanza di senso civico da parte degli abitanti, indubbiamente, ma anche il comune non è che faccia granché. Io credo che delle sanzioni, delle pecuniari siano il miglior sistema per ovviare a questi inconvenienti che abbiamo. Non è possibile che i signori padroni dei cani camminino senza la busta, non raccolgano gli escrementi degli animali e nello stesso tempo ci vivono perché sono persone che vivono in zona, non è che vengono da fuori. E' anche vero che però, notavamo, non ci sono neanche i sacchi. Non ci sono neanche i cestini, diciamo, dove poter depositare le bustine con queste deiezioni canine. Grazie a tutti.